Rapina in centro ai danni di una ventenne straniera, arrestato un 22enne nigeriano. L'aggressione è avvenuta sabato sera nel centro di Belluno, in via San Pietro. La ragazza stava passeggiando quando è stata aggredita dal giovane rapinatore, come lei, un richiedente asilo, che si è avventato sulla sua borsa. Ne è nata una breve colluttazione in cui il ragazzo africano, nello strattonare la vittima per derubarla, ha anche strappato una ciocca di capelli alla malcapitata. La ventenne, durante l'aggressione, ha naturalmente gridato aiuto. In quella via era sola, pensava forse a un tentativo di violenza. In realtà, quel ragazzo aveva in mente di borseggiarla. Il malintenzionato ha afferrato la borsa, prendendo tra le mani anche i capelli che la vittima portava sciolti sulle spalle. Poi è fuggito. I carabinieri del nucleo radiomobile, giunti sul posto, hanno inseguito il ragazzo fino alla stazione, dove è scattato l'arresto. L'area furtiva è stata recuperata e restituita alla vittima. Il rapinatore non aveva avuto il tempo di guardare dentro alla borsa, che conteneva soldi, documenti e un cellulare. La ventenne rapinata ha presentato quindi denuncia contro il proprio aggressore, portato al carcere di Baldenic con l'accusa di rapina. Una curiosità, uno dei militari che hanno arrestato il rapinatore era il suo ultimo turno di notte prima della pensione.